Il Teatro Civico 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 È stata una serata speciale quella dedicata al Teatro Civico di Alghero. Nonostante il maltempo giovedì sera, fanno sapere dal comune, tante persone hanno partecipato alla celebrazione dei suoi 150 anni. L'intensa e coinvolgente iniziativa dell'amministrazione per festeggiare un secolo e mezzo del teatro e di storia della città rappresenta per il sindaco Stefano Lubrano un passaggio fondamentale. Celebra di 150 anni spiega, significa per noi ripartire con l'offerta culturale della nostra città, valorizzando la storia del teatro e ciò che ha rappresentato per Alghero per percorrere una prospettiva nuova fatta di innovazione e modernità che riteniamo debba guidare le nostre prossime azioni. 150 anni del teatro fungono da ideale spartiacque per cambiare, per rinnovare l'offerta culturale di Alghero. L'obiettivo, chiarisce il sindaco, è quindi quello di cogliere tutte le occasioni per fare in modo che il momento speciale dell'evento culturale possa generare un sentimento di comunità sul quale basare la ripartenza della cultura ad Alghero. Il concerto del baritone algherese Domenico Balzani, poi fanno sapere ancora da Sant'Anna, è stato applauditissimo. Dopo aver celebrato facendo salti mortali il compleanno del teatro, aggiunge il sindaco, ora si deve pensare finalmente al suo futuro e per pensare al futuro si deve una volta per tutte pensare seriamente e con la dovuta premura ad eseguire le opere necessarie a tenere in vita e in buona efficienza il teatro. E' impensabile, afferma Stefano Lubrano, che una struttura preziosa come questa sia stata colpevolmente così trascurata in passato da obbligare ora ad eseguire interventi fondamentali per la sopravvivenza stessa del teatro. Troppe negligenze oggi si pagano, chi avrebbe dovuto garantire la piena funzionalità e la corretta tenuta della struttura non lo ha fatto, conclude il sindaco. E' subito polemica sul centocinquantesimo compleanno del teatro civico. A rispondere al comunicato stampa del comune sono i consiglieri d'opposizione Marco Tedde, Gianni Martinelli, Michele Paes e Degno Ballarini. Gli esponenti di centrodestra spiegano, per nascondere il flop della manifestazione stata dalla giunta di centrosinistra, il sindaco Lubrano interviene accusando le precedenti amministrazioni di averlo colpevolmente trascurato. Non sa Lubrano che il teatro è stato completamente riqualificato dalla precedente amministrazione di centrodestra, con ingente impegno finanziario di circa 2 milioni e mezzo di euro, utilizzati anche per la bonifica dello spazio all'aparto dei bastioni della Madalenetta. Crediamo, continuano dall'opposizione, che sarebbe meglio che Lubrano, piuttosto che alimentare polemiche pretestuose, iniziasse a dire qualcosa da sindaco, dicendo qual è il suo progetto di società e della nostra città. Fino ad ora si è distinto per polemiche sterili su posti di sottogoverno, ma non ha fatto sentire la sua voce in ordine alle emergenze cittadine. Eppure lo slogan più gettonato della sua campagna elettorale era «So cosa fare e come farlo». Se poi oggi il teatro avesse bisogno di ulteriori interventi, bene farebbe l'amministrazione a rimboccarsi le maniche e smetterla di continuare con le tristi lamentazioni che la caratterizzano. Ieri 4 dicembre si è celebrata Santa Barbara, questa è patrona della Marina Militare dei Vigili del Fuoco. A San Francesco il Vescovo Monsignor Morfino ha celebrato la Messa della Guardia Costiera. A San Giuseppe, nel quartiere della Pietraia, dove è presente la loro sede, è stato Don Potitognolo a celebrarla per i pompieri. Ieri martedì 4 dicembre si è festeggiata Santa Barbara, questa è protettrice tra l'altro della Marina Militare e dei pompieri, rappresenta infatti la serenità del sacrificio di fronte al pericolo ed è patrona di tutti coloro che rischiano nell'adempimento del proprio dovere una morte improvvisa. Sia la Capitaneria di Alghero che i Vigili del Fuoco del Comando di Via Napoli l'hanno onorata ieri con due distinte funzioni. Alle 10.30 è stata celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di San Francesco. Alla presenza delle autorità civili e militari, con a capo naturalmente il Comandante della Guardia Costiera di Alghero, il Tenente di Vascello Giuseppe Prigigallo. Presenti anche il Sindaco Lubrano, la Presidente del Consiglio Esposito e l'Assessore Caula. Alla stessa ora, ma nella Chiesa di San Giuseppe, nel quartiere della Pietraia, funzione ufficiata da Don Potitognolo per i pompieri. Una celebrazione davvero molto partecipata, con la presenza anche di diverse associazioni di volontari che, come i pompieri, sono impegnate nel controllo e negli interventi sul territorio. Un momento importante è quello della celebrazione della patrona Santa Barbara, che vede riuniti ad onorarla tutti quei corpi che ogni giorno si trovano ad operare in situazioni difficili e rischiano la vita nell'adempimento del proprio dovere. Ogni anno la grande partecipazione anche della cittadinanza a questa ricorrenza sottolinea come siano numerosi, fedeli, devoti anche a questa santa. Ancora polemiche sulle nomine riguardanti i posti di sottogoverno del centro-sinistra. Riguardo la denuncia di Paes sul coinvolgimento di Marino, neopresidente della Secali, in un processo, si pronunciano in sua difesa gli esponenti. Dice un Alghero migliore. Mai come in questo periodo il centro-sinistra o più in generale una maggioranza al governo di Alghero ha offerto così tanti spunti giornalistici. E continuando di questo passo, di certo, le notizie non mancheranno. Sicuramente non è quello che in molti casi si aspettano gli algheresi, che vorrebbero vedere unità di intenti e coesione per avviare progettualità e azioni, per rilanciare lo sviluppo e superare la crisi. Ma si sa, la politica è anche questo. Come riportato ieri, nell'ultime ore, è scoppiata l'ennesima polemica. Questa volta riguarda la nomina di Marino alla Secali. A parte il taglio degli stipendi, su cui l'esponente di sinistra non è d'accordo con Tankis, c'è anche in ballo la questione del processo in cui è convolto lo stesso Marino. È stato Paes del PDL a sollevare la questione. L'ex assessore provinciale risulterebbe indagato per una vicenda legata alla giunta giudici. Questo ovviamente ha fatto sobbalzare sulla sedia tutti i coloro che hanno da sempre condiviso i principi giustizialisti della sinistra, oggi al potere d'Alghero. Ma sono Francesca Arras, Arnaldo Cecchini e Gianfranca Pirisi, esponenti di spicco del movimento Ceno Alghero Migliore, a difendere Marino, vicino proprio alla realtà politica nata da un'idea del preside di architettura. Conosciamo Salvatore Marino, è una persona per bene, competente e disinteressata, dicono i rappresentanti di sinistra e continuano. Le scelte politiche che ha fatto, anche le più recenti, sono state motivate dalle convinzioni, non dalla prudenza e dalla convenienza. Per questo, e non solo per amicizia e affetto, gli rinnoviamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Queste parole, dunque, dovrebbero rassicurare tutti sulla bontà della scelta fatta dal sindaco Lubrano. L'amministrazione ha pubblicato l'avviso pubblico per la gara d'appalto per l'attuazione del progetto di riqualificazione urbana che congiunge lo scalo Tarantiello con la piazza Sulis. Un progetto nato con le giunte Tedde, con l'allora assessore Giancarlo Piras. Intanto sono ancora polemiche per le nomine, come abbiamo detto. L'amministrazione ha pubblicato l'avviso pubblico per la gara d'appalto per l'attuazione del progetto di riqualificazione urbana che congiunge lo scalo Tarantiello con la piazza Sulis. Il programma prevede l'utilizzo di 1.600.000 euro provenienti da un programma di iniziativa comunitaria Interreg. Il progetto, avviato con le giunte guidate da Marco Tedde,